Assessore Sclocco, importanti novità questa mattina per quanto riguarda la disabilità grave nella nostra regione. Ci sono dei fondi? Sì, quasi 2 milioni di euro per garantire l'autonomia e la vita indipendente ai disabili durante la vita dei propri genitori per consentire poi ai disabili di avere una vita autonoma anche quando i genitori non ci saranno più. Il tema del dopo di noi è un tema che affligge tutte le famiglie da appena i bambini nascono perché è un pensiero continuo ripetuto dei genitori e finalmente l'Italia con questa nuova legge sul dopo di noi ha fatto un passo in avanti in termini di civiltà e di diritto. Oggi spieghiamo grazie al dirigente Ferrante del Ministero delle Politiche Sociali e poi spiegheremo come in Abruzzo potranno essere usati questi milioni di euro per creare dei mini appartamenti proprio per i disabili. Quanti sono Assessore e persone interessate da questo progetto? Tutti, molte persone interessate perché i disabili bambini diventano adulti, perché ci sono molti adulti già appunto disabili. è una popolazione molto ampia, noi abbiamo diciamo che il 38% delle risorse, quindi delle risorse importanti del piano sociale sono dedicate esclusivamente alle politiche della disabilità. Della disabilità quella diciamo che abbiamo durante il corso della vita ma anche quella a cui siamo poi in vecchiaia. La regione Abruzzo è una regione che invecchia e questo invecchiamento comporta anche delle malattie legate all'invecchiamento che poi appunto portano alla disabilità, quindi è un tema importante.